Buonasera, vi ringrazio di essere qui con noi e ringrazio soprattutto Michelangelo Pistoletto di aver accettato questo nostro invito. Vorrei dire due parole di saluto, la prima col permesso del maestro Pistoletto sarà per Biella, visto che il luogo dove è nato e dove vive ha, non tutti lo sanno, un nesso privilegiato con la scuola normale per via del collegio puteano qui di fronte, fondato da un arcivescovo di Pisa, Dal Pozzo, biellese. Cassiano Dal Pozzo, un grande personaggio familiare agli storici dell'arte in sala che già sorridono a sentire pronunciare il suo nome fu cavaliere di Santo Stefano, fece il noviziato in questo palazzo, vi abitò e il suo stema sta lì. Allora Biella ha qualche traccia, c'è qualche traccia di Biella alla scuola normale e questa di Michelangelo Pistoletto è stata una visita gradita anche per questo, ma è gradita soprattutto per il suo straordinario lavoro di artista. È un lavoro che se abbiamo ricostruito bene comincia con delle mostre sin da quando aveva poco più di vent'anni e si prolunga fino ad oggi con una grande originalità, con un percorso molto personale. Cito in modo soltanto evocativo, senza entrare nel merito, ricerche interessantissime sull'autoritratto, quadri specchianti, oggetti in meno. Tutti sappiamo che Michelangelo Pistoletto è stato uno dei protagonisti della nascita dell'arte povera. Continenti di tempo, salto gli anni, divisione e moltiplicazione dello specchio, l'arte assume la religione, arte dello squallore, finalmente la fondazione a Biella di Città dell'Arte che ho avuto il privilegio di visitare con lui qualche mese fa con grandissimo interesse perché, e forse io spero che ce ne parlerà oggi, Città dell'arte è un luogo dove non è soltanto una bottega di artista, ma è un luogo di riflessione sul mondo che ci circonda, su quello che è, su quello che potrebbe essere, su quello che dovrebbe essere, su quello che può diventare, su che cosa l'arte e l'artista può fare, perché il mondo che noi vediamo e che forse non ci piace completamente possa essere più simile a quello che ci piacerebbe. Terzo paradiso. Questo è, diciamo, lo slogan, l'etichetta dietro il quale si nasconde, e che forse ci spiegherai, non lo spiego io, dietro il quale si nasconde un pensiero, che è una riflessione attraverso l'arte sulla vita. Nel 2003 Michelangelo Pistoletto ha avuto, leone d'ora, la carriera alla Biennale di Venezia. Nel 2007 ha ricevuto, e è con questo che voglio finire, a Gerusalemme il premio Wolf per le arti, e cito per concludere la motivazione, per la sua carriera costantemente creativa come artista, educatore e attivatore, la cui instancabile intelligenza ha dato origine a forme d'arte premonitrici che contribuiscono ad una nuova comprensione del mondo. Diamo la parola a Vittorio Michelangelo. Mi posso sedere qua? Così ho questa macchinetta davanti che mi aiuta a parlare. Funziona? Sì? Si sente? Sì. Allora, prima cosa vi mostro una immagine che viene dal passato, questa non è un'opera mia, è l'unica opera non mia di questa rassegna. è un'icona bizantina. È chiaro che c'è la figura, e intorno alla figura c'è l'oro. Quindi sappiamo tutti che cosa significa un'icona bizantina. Significa l'immagine del divino, dell'uomo, che ha come segno di divinità questa luce riflessa dall'oro che vuole essere l'universo, vuole essere l'intangibile. Adesso non vedo più nemmeno i bortoni. Ecco. No, no, ma sto scherzando. Va bene, va bene. Questo è un lavoro mio, invece, del 1960. Si vede come io affrontavo l'autoritratto a partire dalla metà degli anni 50 come rapporto tra la figura, me stesso, e lo spazio circostante. Qui abbiamo un fondo, io dipingevo dei fondi neutri, in questo caso il fondo era pittura argento, e su questa pittura io imprimevo in maniera molto, molto semplice, molto primaria, la mia immagine. Naturalmente, per fare l'autoritratto dobbiamo avere uno specchio di fianco. Nella fase successiva, nel 1961, ho dipinto un fondo nero, lucidissimo, e su questo fondo sono apparse le immagini. Questo fondo dipinto è diventato specchiante, ed è su questo fondo che per la prima volta ho potuto vedere me stesso dentro al quadro e non più nello specchio che stava a fianco del quadro, normalmente. L'artista è sempre stato ritratto da se stesso in una dimensione di solitudine, perché c'è sempre l'artista solo sulla tela nel passato. Per la prima volta mi sono accorto che insieme a me nella tela appariva il mondo, appariva lo spazio circostante, apparivano le immagini delle persone che stavano vicino a me. Immediatamente, nel 1962, sono passato a diciamo a forma più perfetta di materiale, cioè all'acciaio inossidabile lucidato a specchio. Questo è un quadro non dell'epoca, non è del 1962, si vede, è molto più recente. Però insomma quello è il fondo specchiante e l'immagine fissata sulla superficie specchiante è diventata fotografica. Perché? Perché nello specchio noi ci vediamo oggettivamente così come siamo e la pittura in qualche maniera trasforma sempre anche se la pittura è estremamente realistica è sempre il risultato di un modo di fare di un fatto soggettivo c'è sempre una soggettività nella pennellata. Io dovevo far coincidere la oggettività delle figure riflesse con la oggettività dell'immagine che fissavo sulla superficie perché ci fosse un perfetto accordo. Quindi è nata un'opera assolutamente oggettiva dove la soggettività cioè il mio umore non erano raffigurati. L'opera diventa un'opera fenomenologica. In questa opera fenomenologica entra il mondo adesso qui vediamo ci sono due immagini dello stesso quadro dove si vede che c'è un movimento di persone dentro allo spazio vedete le stesse persone si sono mosse e un'altra persona si è aggiunta nel quadro e così via lo spettatore diventa parte essenziale dell'opera lo spettatore è incluso in questo spazio che include anche il tempo perché chiaramente nel movimento del quadro c'è il presente c'è un presente che si rinnova continuamente così come si rinnovano le immagini la figura fissata in superficie è sempre è sempre un'immagine del passato perché la fotografia blocca l'istante del presente ma immediatamente ce lo restituisce come fenomeno del passato è memoria la figura fissata è memoria quindi passato questo passato convive nello spazio circostante in cui scorre il presente e insieme passato e presente stanno a invitare continuamente il futuro quindi qualcuno che ancora oggi non è presente in questa opera lo sarà domani può esserlo domani ma addirittura qualcuno che non è ancora nato oggi e già in certo qual modo è presente nello specchio infatti prima o poi arriva alla superficie e arriva anche a diventare così fisico da specchiarsi quindi allora questo è un quadro che mette in moto una diciamo una struttura fenomenologica dell'opera e questa fenomenologia avvicina anzi direi che rende quasi parallela l'arte alla scienza allora il passaggio che io qui ho messo come successivo anche se non lo è direttamente è quello dello specchio puro dello specchio fine a se stesso senza immagine io negli anni sono sono mi sono talmente identificato con il fenomeno specchiante da chiedere da chiedere a me stesso ma se io fossi specchio come potrei riconoscermi lo specchio non ha immagine lo specchio è nulla è nulla nel senso dell'immagine però raccoglie tutte le immagini possibili dell'esistente allora dico se io sono davanti al mondo specchio il mondo ma se non sono davanti al mondo cosa specchio allora ho detto allora per me lo specchio è proprio l'assenza la mancanza ecco perché il titolo di questo di questo incontro è appunto lo specchio pensante lo specchio diviene pensante solo se ci sono io dietro o davanti lo specchio diventa il meccanismo della riflessione del pensiero infatti noi siamo esseri specchianti abbiamo gli occhi abbiamo i nostri i nostri sensi ma in questo caso ancora più di tutti gli altri gli occhi sono specchi i nostri occhi sono lo specchio della realtà che poi che poi attraverso un sistema interno viene condotta al cervello quindi il cervello è il luogo pensante e gli occhi sono lo specchio lo specchio mi permette di ricostruire il rapporto cervello vista allora questo se io pensando allo specchio senza niente davanti a sé mi sono trovato perso completamente perso non esisto sento sento il nulla sento di essere nullo allora allora ho detto come faccio se io per esempio come potrei fare un autoritratto dello specchio così come io ho fatto l'autoritratto per conoscere me stesso il mio viso come potrei se fossi specchio fare il mio autoritratto devo creare il doppio dello specchio e l'ho diviso semplicemente in due parti lo specchio diviso in due parti è stato l'atto diciamo l'azione un'azione un'azione artistica dividere lo specchio in due parti dalle due parti divise leggermente mosse sull'asse del taglio cominciano a riflettersi a vicenda e riflettendosi e a vicenda che cosa succede creano il terzo specchio che voi vedete dentro tra i due specchi all'interno dei due specchi voi vedete il terzo specchio allora nasce in questo modo diciamo la progenie dello specchio nasce il primo figlio dei due specchi primari poi con la progenie degli specchi continua chiudendo lo spazio tra i due specchi e vediamo qui che gli specchi all'interno si stanno moltiplicando quindi è una divisione dello specchio che suddividendosi a sua volta crea la moltiplicazione gli specchi si moltiplicano all'interno dei due specchi genitori ecco è interessante considerare che vedete qui la moltiplicazione continua fino all'infinito quando i due specchi saranno frontali quindi abbiamo un vuoto un nulla iniziale e un infinito finale i due i due i due i due punti il primo e l'ultimo sono due punti che non ci permettono il riconoscimento possiamo considerare che c'è l'infinito attraverso dentro a questi due specchi ma non lo possiamo vedere non lo possiamo vedere anche perché l'infinito l'infinito che sta dentro a questi due specchi è intangibile quindi noi con i nostri con i nostri sensi non ci possiamo arrivare ci possiamo arrivare con la nostra immaginazione allora la stessa cosa qui si dice è un gioco virtuale la stessa cosa succede proprio in senso organico la cellula la cellula fisica organica si divide in due parti le due parti si dividono a loro volta e così via le parti si dividono e si suddividono moltiplicandosi fino alla formazione del corpo quindi c'è un rapporto tra la virtualità e la fisicità biologica ecco una cosa interessante da considerare è questa che come abbiamo visto all'inizio lo specchio è diviso in due parti quindi se noi consideriamo lo specchio indiviso come zero ci rendiamo conto che la divisione dalla divisione dello zero nascono due specchi quindi si passa dallo zero al due l'uno l'uno da solo non esiste esiste l'uno e l'uno quindi i due elementi i due elementi che procreano poi ciò che deve essere procreato quindi dalla divisione nasce la moltiplicazione per me questo è già un fatto importante quando io considero che poi nella mia attività tutto il mio lavoro assume una caratteristica di impegno sociale quindi se si considera che all'origine c'è la divisione e non la moltiplicazione e si traduce questo principio matematico in un principio sociale dalla parola divisione si passa alla parola condivisione condivisione cosa che invece non succede se si se si parte dal concetto di moltiplicazione si dice all'origine c'è la moltiplicazione cosa che avviene avviene veramente perché appena si è divisi si è divisa la cellula la cellula si è moltiplicata ma se si parte si dimentica che c'è stata prima la divisione si si dà si dà principio da senso di principio alla moltiplicazione si arriva a questo al concetto di accapparramento e di esclusione cosa che è un po' quella che domina domina i sistemi economico-politici eccetera eccetera quindi io nella città dell'arte che è il luogo in cui si si sviluppa poi il lavoro successivo anche un lavoro diciamo di gruppo è basato su questa idea della condivisione e quindi la condivisione è l'elemento primario che però si attacca si allaccia a una fenomenologia fondamentale che ha senso universale questo è un altro momento del mio lavoro e sono gli oggetti in meno che il professor Settis ha menzionato un attimo fa gli oggetti in meno voi vedete tante cose qui in questa mostra gli oggetti in meno li ho realizzati tra il 1965 e l'inizio del 1966 quindi quattro anni no tre anni dopo i primi quadri specchianti quindi voi vedete che la caratteristica di questi lavori sta nella differenza tra i vari lavori voi potreste dire che questa è una mostra collettiva ed è una mostra collettiva invece fatta da una persona sola sono io il pistoletto la gente che non mi riconosce la gente che cercava pistoletto a quel punto non mi riconosceva più cioè il mio marchio standard è stato spezzato completamente frantumato nel concetto invece di differenza la differenza è diventato un altro dei principi su cui ho basato poi il mio lavoro successivo prima la divisione anziché la la moltiplicazione poi la differenza anziché l'uniformità quindi lì ho anche veramente diciamo deviato il concetto di marchio personale che era importantissimo specialmente in quegli anni e allora ancora forse ancora più oggi del fenomeno dello stile personale dell'artista l'artista come marchio da vendere marchio economico marchio consumistico proprio davanti a questa fenomenologia del glamour consumistico in cui il mio stesso lavoro negli anni 60 era entrato con i quadri specchianti io ho sentito il grande pericolo per l'arte di perdere che l'arte potesse perdere questa autonomia questa autonomia rispetto a tutti i vari sistemi economico politici e quindi ho spezzettato la mia personalità in tante opere diverse quindi è diventato impossibile sapere qual è il marchio pistoletto non c'è infatti voi vedete io adesso faccio una carellata rapida dei vari lavori questa è la casa misura duomo ho chiamato misura duomo perché era alta come una persona questa è la fontana luminosa una pittura questo è il letto specchiante questo era una sfera di giornali racchiusa in una in una gabbia di meridiani e paralleli questa sfera l'abbiamo però fatta correre per strada prima di chiuderla in questo era una sfera da passeggio l'abbiamo portata in giro per strada Maria e io poi c'è questi erano i personaggi per esempio di quando io ero piccolo che è diventato il piccolo paesaggio una memoria vedete il tavolo il quadro da pranzo il pubblico si può sedere e far colazione dentro al quadro quindi un altro modo per includere lo spettatore questa è la rosa bruciata questo lavoro nasce da un da un sogno il sogno come ricetta di notte di notte ho sognato che tagliavo dei pezzi di cartone ondulato lo bagnavo gli davo in forma di di rosa e poi spruzzavo del colore rosso e poi davo fuoco al centro e così alzandomi ho fatto proprio prendendo il sogno come ricetta e ho trovato il cartone proprio nello studio e ho potuto fare questo lavoro quindi questo per dire come io agivo agivo nell'immediatezza non lasciavo passare un'idea che mi balenava anche anche un sogno non lo lasciavo passare lo coglievo e in questo modo i lavori erano diversi perché ogni momento anche in questa fase di azione e non solo di visione nello specchio si verificava la differenza tra momento e momento quindi c'è una dinamica la dinamica delle differenze questa è una scultura che io avevo comprato da ragazzo d'alta epoca immersa in un paralepibedo colorato queste erano palline decorative questo è un quadro dipinto con una frase ti amo questi erano i miei vestiti che mettevo durante il giorno per lavorare e di sera li mettevo in vetrina perché ho detto ma se io poi non dovessi più svegliarmi almeno sono già museificati e questo è ma sono idee che ti passano e tu le cogli però c'è una cosa c'è una cosa secondo me secondo me significativa proprio nel concetto di oggetti in meno perché il titolo è importante di questa serie di lavori il titolo vuol dire vuol dire che significa che nel mio cerebro c'è un'enorme massa di possibilità esiste una massa di possibilità enorme tutte queste così come nell'universo esiste una massa di possibilità enorme allora il mio cervello è un piccolo è un piccolo universo che ha in sé una quantità di cose possibili negli oggetti in meno io ho tratto dal possibile il dall'impossibile cioè dal possibile il il fattibile il fatto quindi sono possibilità che rimangono latenti nell'ambito del possibile che vengono sottratte al possibile per diventare realtà quindi ogni oggetto è un possibile che diventa oggetto diventa fatto quindi questo è questo l'essere l'essere delle cose che viene sottratto dal possibile intangibile ecco questo è un lavoro in cui c'è il metro cubo di infinito il metro cubo di infinito non ve ne ho parlato ma vedete che è parte degli oggetti in meno ed è un cubo realizzato con sei specchi volti all'interno legati con una semplice corda la corda li tiene insieme così come i nervi possono tenere insieme diciamo le parti di un corpo però all'interno lo specchio si riflette ogni parte di sé all'infinito è intangibile lo possiamo solo immaginare questo spazio anche se vediamo diciamo dalle parti sporgenti degli specchi che in qualche maniera ci possono offrire questo senso dell'infinito ma voglio che sia intangibile perché l'intangibilità mi dà il senso dell'infinito è un oggetto fisico tangibile dentro al quale c'è l'intangibile infinito quando mi è stato chiesto di fare un luogo di incontro religioso in un ospedale l'ospedale Pauli Calmet di Marsiglia l'ospedale oncologico mi è stato chiesto di fare un luogo di raccoglimento perché doveva sostituire la cappella cattolica che esisteva precedentemente che doveva essere sostituita proprio dalla presenza di qualcosa di diverso che potesse soddisfare persone di diverse religioni di diverse culture che abitano in quella città 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 un porto nel quale nel quale sono giunti individui delle più diverse religioni e culture tradizioni eccetera che finiscono in quell'ospedale e non trovano un luogo di riflessione e di conforto allora io ho pensato di realizzare un piccolo tempio in cui le quattro religioni monoteiste fossero presenti voi vedete nello sfondo ci sono questi questi emblemi e nel centro però c'è l'arte c'è un'opera d'arte quindi l'arte si pone al centro di una riflessione di una riflessione che è quella che ho detto prima l'inflessione infinita ma l'oggetto l'oggetto che produce questo infinito intangibile è fisico quindi questo lavoro meglio di tutti gli altri oggetti in meno proprio rappresenta l'infinito meno meno la cosa realizzata infatti senza senza noi pensiamo all'infinito intangibile non ha corpo non ha corpo ma ha bisogno in questo caso lo dimostra il lavoro ha bisogno di un corpo dentro al quale questo infinito si rivela e quindi perde l'infinito perde la sua qualità di infinità quindi diventa l'infinito meno un corpo dunque è l'infinito meno uno il corpo esistente è l'infinito meno uno così come tutti gli altri oggetti in meno così come tutto ciò che si manifesta fisicamente è l'infinito meno uno quindi questa è un'opera dell'arte che si posta al centro di quella che è la riflessione che dà origine al concetto di spiritualità cioè l'infinito mentale e qui beh questo alla città dell'arte il lavoro è stato riprodotto come una tenda una tenda che poi viene portata in altri posti dove vediamo che intorno ci sono gli emblemi delle varie religioni questo è il tappeto musulmano eccetera e c'è anche un'altra un'altra nicchia in cui c'è uno spazio a disposizione di chi anche non ha una religione o di chi ha altre fedi e allora qualsiasi fede può essere rappresentata e uno può arrivare con il proprio simbolo e porlo sopra a questa base però è anche un simbolo di non religiosità ecco un altro lavoro che è esposto che il professor Settis ha visto è l'autoritratto di stelle un altro modo di considerare la specularità è stata fatta una fotografia del mio corpo e contemporaneamente una fotografia dell'universo qui sono galassie galassie che vengono vengono impresse all'interno di questa pellicola naturalmente le galassie qui sono punti neri perché è il negativo delle galassie se no dovrebbe essere tutto nero quindi punti bianchi che sono le stelle ma dà più senso di corpo questo fatto in questo modo allora qui vediamo come la dimensione del mio corpo può raccogliere può identificarsi in uno spazio enorme di universo e questo spazio enorme di universo può in qualche maniera identificarsi e riconoscersi nella piccola dimensione del mio corpo quindi c'è una specularità dall'uno a tutto dal grande al piccolo dall'essere individuale all'essere universale ecco qui questo è un frammento di quelle galassie e qui ho cercato di far vedere come funziona questo lavoro questo frammento di immagini di galassie viene è posto su un tavolo e significa questo che ogni punto dell'universo è il centro ogni punto del sistema galattico è il centro dell'universo infatti vedete che dove io posto il dito c'è un centro intorno a cui tutto tutto gira tutto gira adesso io sposto sposto il dito e il centro dell'universo segue il mio dito lo sposto e l'universo segue ancora il mio dito cioè ogni punto è il centro dell'universo come avviene questo sono semplicemente la stessa immagine trasparente stampata su trasparente viene mossa con una delle due mani e muovendosi fa circolare tutto intorno al punto in cui io pongo il mio dito ma non ho bisogno di il dito serve per indicare il movimento ma ogni punto ogni punto è espressione di una centralità universale ecco ancora qui io rapporto questo concetto di di universo al fenomeno sociale e trasmetto questo pensiero che consiste nel considerare che ogni persona è il centro della società dell'universo sociale qui c'è un'altra serie un'altra serie di un altro gruppo di lavori che sono il segno arte io ho creato questo segno come diciamo così come porta di ingresso all'arte e nello stesso tempo di ingresso nella vita rapporto arte-vita quando noi siamo abituati a pensare all'arte come qualcosa che sta dentro all'arte che è già significata nel senso di arte questa è arte dunque sta dentro a questo ambito dell'arte invece io questo lavoro lo pongo come entrata non siamo ancora entrati nell'arte ma c'è un segno che significa arte e noi attraverso questo segno possiamo prendere parte poi al concetto artistico cioè la concettualità dell'arte ma anche ai vari aspetti della vita infatti qui vedete ci sono dei tappeti delle finestre questo è un tavolo questa è una scrivania questo è un mobile di metallo sono mobili eccetera questa forma nasce dall'idea della persona dalla centralità dal concetto di centralità della persona allora quando qualcuno vede questo segno arte di solito dice ma ecco questo è l'uomo di Vitruvio è l'uomo di Leonardo con le gambe e le braccia aperte allora io vi faccio vedere qual è il rapporto tra questo lavoro di Leonardo e il mio qui abbiamo il disegno originale di Vitruvio quindi siamo nell'epoca romana Vitruvio che squadra l'uomo aprendogli le braccia e ponendolo così quasi a misurare il quadrato questa idea di universalità della figura già Vitruvio parlava di circolarità di questa immagine e Leonardo l'ha descritta appunto allargando divaricando le gambe lasciando il disegno primario e primitivo divaricando le gambe e alzando leggermente le braccia per farle coincidere le braccia con l'incontro del cerchio con il quadrato anche se poi sotto nelle gambe nei piedi il quadrato pare non avere importanza comunque questa cosa è quello che ha fatto Leonardo io ho fatto un passaggio successivo Leonardo naturalmente è rinascimento dunque siamo in due epoche che sono considerate essere classiche anche se il professor Settis ha fatto un lungo studio e ho letto il suo libro sul classico mondiale internazionale di tutti i tempi eccetera c'è una classicità che noi consideriamo in senso classico se posso usare questo gioco di parole ma questo è il mio lavoro no cosa è successo ho sbagliato tutto cosa è successo eccolo qua eccolo qua allora manca un'immagine oh eccola qui allora vedete questo è Leonardo e questo è il pistoletto cosa ha fatto il pistoletto ha alzato ancora le braccia creando un triangolo equilatero tra le braccia identico al triangolo che si era creato tra le gambe allora cosa succede succede che tutti i conti tornano anche proprio secondo il mio concetto di rispecchiamento il mio concetto di riflessione di rispecchiamento l'alto e il basso coincidono la sinistra la destra tutte le varie parti del corpo sono armonicamente coincidenti scambievoli e quindi abbiamo questo uomo che si muove in questo modo con i due cerchi i due cerchi che si inseriscono nel cerchio grande toccando l'ombelico e formando una specie di otto una specie di segno di infinito e il centro del cerchio inferiore o del cerchio superiore può essere congiunto con i due piedi e quindi crea un grande triangolo e il centro del cerchio inferiore può essere congiunto con le mani creando un altro triangolo ed ecco che abbiamo il segno arte quello che avete visto che fa da porta che fa da tavolo che fa da come si può dire da oggetto di vita allora questo questo signore qua ecco ecco perché qui ritorniamo all'idea di società questo è una persona è un'immagine è un essere che secondo me è equilibrato in se stesso e anche in rapporto ai grandi cerchi ma noi nella nostra società ecco dove ritorniamo al sociale nella società attuale io riconosco una società come diciamo un corpo che è percorso da non è fatto solo di cellule ma è percorso da un sistema sanguigno per esempio e ritengo che per esempio il sistema sanguigno nella società possa essere rappresentato o possa rappresentare nella società il sistema economico questi globuli che passano attraverso il corpo attraverso il fegato attraverso e poi entrano nel battito del cuore che li fa girare li fa correre e quindi abbiamo un corpo che è il corpo sociale che funziona attraverso l'economia prendiamo l'economia per dire poi c'è la politica poi c'è la comunicazione poi c'è la scienza poi ci sono tante altre cose ma prendiamo l'economia allora qui c'è un disegno c'è un disegno di che io ho fatto che viene che nasce dalle statistiche socio-economiche in cui vediamo che c'è una piccola una piccola testa in cui si concentra tutta l'economia e la potenza e il potere e poi c'è un grande corpo che si dilata nella dimensione nella dimensione della povertà quindi c'è questa dell'indigenza delle problematiche e della povertà quindi questo corpo a me non piace allora perché tu ti occupi di città dell'arte ti occupi di politica ti occupi di economia ti occupi di educazione eccetera di produzione di lavoro e dico semplicemente per una ragione perché sono un artista e sono partito dal corpo dal mio autoritratto sono partito dall'icona sono partito dalla dimensione umana e quindi sto cercando di ricostruire questo corpo semplicemente ricostruire il disegno di questo corpo e quindi il disegno di questo corpo è quello che ho messo adesso qui al centro quando la società riuscirà ad avere a ricompor a comporsi con questo equilibrio secondo me il lavoro sarà ben risolto il lavoro figurativo dell'arte e l'arte deve lavorare perché insieme agli altri insieme al mondo si possa ottenere questo risultato estetico che è questo qui c'è la porta e qui c'è la figura che è immersa nella porta che sta nella porta che passa attraverso la porta e non è più una figura maschile ma è una figura femminile quindi c'è anche una differenza tra quello che era l'idea dell'uomo al centro e qui c'è la donna al centro la donna proprio perché e poi qui si vede anche proprio che c'è l'ombelico che è quasi segnalato anzi è segnalato da due punte che nella porta rappresentano quasi due frecce che indicano il centro di tutto questo movimento e l'ombelico è ciò che unisce la persona attraverso il cordone ombelicale che crea questo simbolo il taglio del cordone ombelicale lascia un simbolo che abbiamo tutti noi addosso che portiamo dietro ed è il simbolo che ci unisce a tutti coloro che ci precedono fino ai primi mammiferi e continuerà ad esistere fin quando noi esseri umani riusciremo a sopravvivere quindi un segno importantissimo che io ho identificato come centro di questo nuovo segno che è il secondo segno per me di grande importanza dopo il segno arte il segno del terzo paradiso il terzo paradiso qui vedete che abbiamo una abbiamo un ombelico al centro e quindi abbiamo questa cosa significa il terzo paradiso significa che c'è un primo paradiso che è quello quello della natura che precede il morso della mela il secondo il morso della mela è simbolico è simbolico di che cosa di un atto di estrazione degli esseri umani dalla natura e quindi questo portare portare la persona umana fuori dal naturale e creare per creare l'artificio dunque il primo paradiso è il paradiso naturale il secondo paradiso è quello artificiale che nasce dal momento in cui le persone si stacca dalla natura e crea man mano e crea man mano tutto quello che è il processo il progresso che ci ha portati al progresso attuale il quale è allo stesso tempo meravigliosamente avanzato in senso positivo e sta creando veramente dei grossi problemi in senso negativo sul piano della natura stiamo stiamo rovinando il terreno stiamo distruggendo il terreno madre il nostro terreno madre e quindi rischiamo ovviamente le nostre generazioni future ecco perché l'ombelico ecco perché il ventre perché il ventre invece è quello che dovrebbe essere il luogo procreativo di questo nuovo stadio dell'umanità che riesce finalmente con questo concetto di terzo paradiso a mettere insieme il primo e il secondo cioè a unire l'artificio questa vita artificiale dell'uomo con la natura quindi natura e artificio che rappresentano i due punti uno un cerchio da una parte l'altro dall'altra un cerchio è l'artificio l'altro è la natura il cerchio centrale unisce unifica mette in perfetto per la simbiose e sintonia in equilibrio i due paradisi i due paradisi artificiale e naturale il termine paradiso è un termine che non nasce con la religione nostra ma nasce da è un termine persiano che significa giardino protetto il luogo che nel deserto è protetto quindi dove c'è proprio veramente il giardino è il giardino quindi il nuovo giardino ecco qui c'è questo terzo paradiso cioè questo segno di infinito nuovo con un grande ventre fatto di di tre di tre cerchi anziché due è inciso nel terreno quando c'è stata questa presentazione di città dell'arte alla Biennale di Venezia del 2005 mi sembra ecco nell'isola di San Servolo con la direzione di Bonito Oliva questo è proprio addirittura abbiamo creato un orto del terzo paradiso che è molto simbolico vicino a Biella al piazzo e quindi è l'orto del terzo paradiso poi qui ci sono diverse diverse interpretazioni del terzo paradiso che sono state esposte appunto voi avete visto che Gianna Nannini era presente in queste immagini non solo ma non solo nell'immagine ma anche proprio con la sua voce la sua voce che cantava che pronunciava in maniera in maniera musicale la parola mamma mamma dunque l'interno il centro il terzo paradiso come luogo di procreazione il gemito della nascita e là in fondo voi vedete che ci sono tutti questi segni del terzo paradiso attraversati da questo cordone ombelicale che unisce le generazioni questo è un terzo paradiso fatto poi recentemente a Bari e abbiamo anche fatto un lavoro con i musicisti musicisti che hanno interpretato la voce della nannina il gemito diciamo iniziale di mamma e ci sono stati dei concerti fatti su questo tema e qui c'è adesso c'è adesso qui un escursus molto molto veloce sulla città dell'arte voi vedete che lo stesso marchio di città dell'arte è quasi biologico è quasi un prodursi di un sistema cellulare ed effettivamente città dell'arte è questo all'inizio città dell'arte è un nucleo che si suddivide in nuclei diversi che si suddividono in altri nuclei c'è scritto creatività organica perché il nostro concetto è proprio quello di unire la capacità artificiale del creare alla dimensione organica dell'esistente e nascono così campi di tensione magnetica e gravitazionale come cellule che prendono poi dei nomi i nomi del sistema sociale non ve li leggo perché sono leggibili mi pare noi abbiamo tra questi scelto quelli essenziali e abbiamo creato per ogni sezione per ogni settore della struttura sociale un ufficio che sarebbe poi arte e produzione arte educazione arte e spiritualità l'arte è l'elemento primario ed è anche il corpo che noi vogliamo poi creare i due punti il punto di partenza e il punto d'arrivo è sempre quello del corpo il corpo sociale così come corpo fisico anche come corpo mentale allora vedi c'è l'art office l'ufficio arte questo per esempio è uno dei lavori che i giovani che frequentano l'Unidee Università dell'Idee che è parte di Città dell'Arte e quindi dell'ufficio educazione hanno realizzato parecchi lavori così sulle facciate delle industrie e questo è un lavoro fatto da uno di questi artisti che ha individuato il cambiamento si vede un po' i continenti come erano milioni e milioni di anni fa e poi come man mano sono diventati attuali poi però questa stessa cosa si riflette sull'attualità il cambiamento è inevitabile questo è un altro lavoro fatto dall'ufficio arte di un altro artista di una coppia di artisti che hanno realizzato queste immagini dove ci sono le diverse pelli e nello stesso tempo possono essere anche il campionario pelli umani e il campionario dei tessuti ufficio spiritualità può essere questo può essere diciamo può partire dal concetto dal concetto di del terzo paradiso così come dal luogo che avete visto dal luogo di raccoglimento che avete visto prima quindi qui abbiamo l'ufficio educazione l'università dell'idea ne ho appena parlato giovani da tutte le parti del mondo che vengono e lavorano tutti sul tema della trasformazione sociale responsabile direi che il prodotto che esce da città dell'arte e da tutti gli uffici di città dell'arte è un prodotto che reca questo messaggio in qualche maniera lo reca o lo produce o produce diciamo un risultato nel senso di una trasformazione sociale responsabile questo quest'anno la città dell'arte ha compiuto dieci anni abbiamo festeggiato il decennale e da dieci anni appunto l'università dell'idea lavora così come gli altri uffici su questo soggetto Ecology Office vabbè qui c'è il riciclo ci sono dei bambini che imparano a creare riciclando poi c'è Economic Office abbiamo creato la banca dei valori umani Human Values Bank che si basa sulla ricerca di un equilibrio economico che porta i valori alla dimensione dell'essere umano e quindi non l'essere umano alla dimensione dell'astrazione simbolica del danaro ufficio politica ufficio politica abbiamo creato il love difference amare le differenze questo è un disegno è un disegno del Mediterraneo trasferito in un tavolo tavolo specchiante intorno a cui ci si ci si siede le sedute sono donate da ciascuno dei paesi del Mediterraneo e questo è divenuto un simbolo di un Parlamento culturale mediterraneo e abbiamo anche sviluppato l'anno scorso da love difference movimento artistico per una politica intermediterraneo abbiamo sviluppato un diciamo un manifesto per un Parlamento culturale mediterraneo e quindi questo è un po' un tavolo che circola nelle varie città del Mediterraneo ne abbiamo otto che circolano e intorno a questo tavolo creiamo occasioni di incontro culturale che possono poi però avere uno sviluppo di fondo per un cambiamento anche diciamo pratico e politico la cultura in Europa non è stata considerata come primaria nell'Unione Europea creare l'Unione Europea ma è stato considerato primario il diciamo il fenomeno economico danaro politica oggi si sentono si sente la mancanza c'è una crisi di fondo che è prodotta dalla mancanza di una base culturale che metta le differenze diciamo tipiche delle tradizioni di tutta Europa e quindi viene a mancare questa capacità anche di considerare il fatto che bisogna amare le differenze prima di amare le economie diciamo e gli scambi politico office questo è sono andato indietro poi c'è produzione insomma io adesso mi fermerei qui perché sono stanco di parlare di queste cose fino a quando si va a pranzo e fra un po' ci andremo e abbiamo l'ufficio nutrimento che anche questo è molto legato all'ufficio economia perché stiamo lavorando sul chilometro zero sulla filiera corta e quindi tutti i nostri prodotti sono prodotti locali e quindi cerchiamo di sviluppare un'economia locale che non è basata sul protensionismo ma sulla produzione per cui creare anche proprio un'idea di economia che è territoriale e quindi questa banca dei valori umani porta un progetto che è di tipo globale ma nello stesso tempo un progetto di tipo locale quindi glocal l'economia glocal però noi cerchiamo di mettere in pratica tutto ciò che annunciamo tutto ciò che mettiamo in evidenza sul piano teorico grazie se ci sono grazie vi lascio vi lascio la mela reintegrata come simbolo ultimo simbolo del terzo paradiso dove il morso è ricomposto e questa mela è di lana è fatta di lana perché la lana è per me l'esempio il simbolo del riciclo perché la pecora si sveste per vestire gli esseri umani e si riveste a sua volta per me è un simbolo straordinario di rapporto produzione natura cominciò io a fare una domanda perché pensavo l'ho pensato già quando ero a Biella e l'ho ripensato nel percorso che ci ha fatto vedere oggi pensavo a quanto ora voglio usare proprio apposta la metafora dello specchio a quanto il lavoro di Michelangelo Pistoletto rispecchia probabilmente non sempre facile sapere che cosa è cominciato prima rispecchia delle cose che sono successe però negli stessi anni ne vorrei dire qualcuna per esempio due solo due uno questa giocare con lo spettatore cioè il quadro che rispecchia tutto questo è stato fatto ed è nato e si è sviluppato con un lavoro di cui abbiamo visto soltanto alcune tappe perché il lavoro è molto più naturalmente molto più ricco di quello che noi abbiamo visto negli stessi anni negli stessi decenni in cui cominciano a nascere le teorie della recezione della letteratura prima e dell'arte dopo e in cui il ruolo dello spettatore comincia a diventare screscentemente un oggetto di studio da parte degli storici dell'arte anche per l'arte antica allora questo per esempio il fatto che questa idea di attrarre lo spettatore dentro il quadro quasi fisicamente chiamandolo dentro attraverso lo specchio sia simultaneo a quello di storici dell'arte che magari non conoscendo l'opera di Pistoletto oppure conoscendola questo è difficile saperlo si interrogano interrogano se stessi su come davanti a un quadro tradizionale Botticelli o Piero della Francesca o qualsiasi altra cosa lo spettatore in qualche modo è chiamato dentro il quadro ma con altre tecniche allora quindi senza ricorrere superfici specchiate questo è una cosa l'altra cosa che mi colpisce molto nel lavoro di Pistoletto è l'altra cosa che rispecchia una produzione di idee di problemi una consapevolezza dello sviluppo della società una consapevolezza culturale più generale e questa evoluzione dal lavoro artistico individuale alla riflessione sul rapporto uomo-ambiente questo mi sembra un altro che è una tematica del nostro tempo mi pare che in questi due casi questi due casi dimostrano un livello di sensibilità delle antenne che solo un artista può avere verso la società che poi ognuno può interpretare come vuole ma che un artista come Michelangelo Pistoletto ha saputo tradurre in opere che hanno avuto allora questo non è una domanda fino a qui ma la domanda ora arriva ed è questa rispetto se qualcosa di quello che ho detto è vero le reazioni all'arte di pistoletto in questi ultimi e in particolare mi interesserebbe le reazioni rispetto al rapporto con l'ambiente le reazioni che ci sono state come reagisce il pubblico la critica e in particolare la mia domanda è come reagisce in Italia come reagisce fuori d'Italia perché questo tema dell'ambiente è un tema su cui sembra che siamo tutti d'accordo e poi non è mica vero perché si segmenta si frammenta si disperde in mille riboli e forse un artista può fare per farsi riflettere su questi temi più di quanto possono fare che so io economisti politici e questo che lei ha detto corrisponde alla realtà dei fatti però devo dire che non è così facile cogliere le risposte dirette in questo senso devo dire una cosa che il mio lavoro proprio in tutti i suoi diversi risvolti posso riconoscere che è rispettato rispettato è riconosciuto questo non c'è dubbio questo non c'è dubbio no ma è riconosciuto vuol dire vuol dire che il fatto che sia riconosciuto vuol dire che che è legato a una necessità perché è riconosciuto per quella ragione lì cioè secondo le cose secondo me hanno hanno diciamo un riscontro in base alla necessità che socialmente queste cose si sono sentite quindi anche diciamo l'arte del passato aveva una capacità inclusiva dello spettatore aveva una capacità inclusiva in relazione a quelle che erano le necessità del tempo dello spettatore di essere incluso ed era incluso normalmente lo spettatore era incluso attraverso diciamo un racconto una storia una logica globalizzante del pensiero che era che era poi di carattere religioso di carattere sociale in qualche maniera e quindi l'artista condivideva queste queste questa letteratura descrittiva e in qualche maniera in qualche maniera la gente si sentiva partecipe e nel ventesimo secolo che ci si è staccati completamente da questa capacità di 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 riuscire a fare il racconto partecipativo attraverso il quale di creare un rapporto partecipativo a livello globale diciamo sociale e l'artista è diventato simbolo di se stesso è diventato simbolo dell'individualità simbolo della soggettività e questa soggettività ha un po' allontanato anzi ha allontanato totalmente la comprensione dell'opera cioè lo spettatore nel senso del viaggio di comprensione dell'opera e quindi l'arte moderna è diventata un fenomeno stravagante però ostico strano fatto che è stato preso più come cambiamento di segni anche addirittura non so Mondrian è più capito quando lo stampano sui vestiti che quando lo vedi nel museo è così un po' questa cosa invece lo specchio invece per la prima volta non racconta qualche cosa ma fa succedere qualche cosa cioè non racconta più la partecipazione come poteva essere la storia non so del viaggio di Cristo sul Golgotha che diceva prima o poi saremo tutti destinati a essere a aver male dolore eccetera quindi saremo anche non so avremo delle grazie noi invece abbiamo uno specchio che non è più non riflette più questa idea di di trascendenza ma c'è una discendenza diretta al mondo che noi viviamo e questa è la partecipazione dello specchio sì grazie volevo fare due osservazioni due domande una è sulla stessa linea di quella che ha appena detto Salvatore Fettis mi sembra una costante dell'arte di una parte dell'arte contemporanea la scelta di simboli grafici molti artisti hanno scelto simboli grafici lei ne ha scelti ce ne ha fatti vedere almeno due molti artisti hanno scelto simboli grafici lei ci ha fatto vedere due se ho capito bene uno lo chiama arte l'altro lo chiama terzo paradiso la mia osservazione e poi le volevo domandare se c'è qualche come dire legame con la sua spiritualità con l'evoluzione del suo pensiero mi sembra che nel passaggio dall'uno all'altro simbolo si registra un'altra delle premonizioni dei grandi cambiamenti di quest'epoca il simbolo arte diciamo chiamalo così è ancora frutto di una natura geometrizzata di una natura semplice di una natura che conserva la proporzione aurea che conserva la classicità si potrebbero calcolare gli angoli e scoprire che sono angoli quelli che diciamo a cui siamo abituati dalla visione classica il secondo simbolo il terzo paradiso è invece un simbolo fortemente biologico fortemente complesso fortemente curvo la natura da una lettura geometrica fissa statica passa ad una lettura mobile che non è possibile afferrare che non è possibile quantificare quasi ed è il grande passaggio della scienza nella seconda metà del novecento da una scienza che guarda la fisica come disciplina principe ad una scienza che guarda come oggi la biologia come disciplina principe da un mondo semplice anzi da un mondo col meno in cui come dice Gai Leo si tolgono le condizioni difficili per avere una natura facile si passa a un mondo in cui è un mondo col più si aggiungono e non si possono non aggiungere condizioni mi domandavo se questo passaggio fa parte anche delle sue elaborazioni artistiche culturali la seconda brevissima osservazione mi è venuta pensando che le sue opere dovrebbero essere conservate le sue opere dovrebbero essere conservate con la sua voce non è solo lo spettatore che entra nelle opere ma è lei con le sue parole con la sua presenza con quello che racconta che in qualche modo fa parte dell'opera stessa io ho visto sulla carta sulle riviste le sue opere ma devo dire che l'impressione è totalmente un'altra quando le sento con la sua voce dietro quindi non solo lo spettatore pensante sì esattamente non solo lo spettatore che è già dentro ma l'artista che esce fuori sono due in due sensi e questo si nota ho finito questo si nota secondo me in particolare in questa sua evidente continua attenzione per come dire trasportare all'esterno del mondo le sue visioni lei ha detto spesso questa è una lettura del sociale una lettura delle trasformazioni sociali e allora le domande le due osservazioni si mettono insieme perché da un'epoca in cui la lettura del sociale era geometrizzata e allora faccio un salto ideologizzata siamo passati a un'epoca in cui la lettura del sociale è meno ideologica è più come posso dire artistica complessa vorrei dire frattale quasi e il simbolo di città dell'arte ha una indubbia assonanza anche quel disegno con i cerchi successivi a una chiarissima ascendenza o legame o risonanza col mondo frattale ecco mi domando se questi aspetti hanno fatto parte della sua elaborazione grazie ma io la ringrazio molto perché quello che lei dice mi aiuta anche molto perché ci aiutiamo a vicenda ad andare avanti sì però vedere che sono passato già nel disegno della persona che si rispecchia nell'alto e nel basso già lì c'è il centro nell'ombelico eccetera già lì sono passato ho eliminato il quadrato e tutto è già diventato circolare perché sono i cerchi che si ritrovano nei cerchi e quindi è lì che nasce questo passaggio tra quello che è questa geometria rigida verso una circolarità che poi io quando penso alle cellule penso delle palline che poi si dividono e moltiplicano cioè poi e quindi la mela per esempio è stranamente stata sempre presa fin dall'antichità come un fatto no? biologico tanto mentale quanto biologica come simbolo e quindi io penso che il segno del terzo paradiso che cosa fa? toglie questa anche nel segno matematico dell'infinito c'è qualcosa di arido di di arido che è giusto che ci sia perché io credo che ci sia questo passaggio diciamo della stessa vita che va alla morte e poi nella morte le cose si decompongono per diventare altra vita e quindi si ritorna sempre questo punto di passaggio solo che questo punto è un punto che non ha consistenza che invece è il punto della nostra vita il punto della nostra vita allora ci vuole in mezzo a questo segno astratto di un universo che è iscritto in questo infinito ci vuole anche proprio questo passaggio fisico che è quello della nostra vita che poi la nostra vita poi pian piano possiamo anche paragonare alla vita pratica delle cose che ci sono nell'universo l'universo non è fatto solo di nulla ma è fatto di tutto e quindi c'è questa dinamica in cui secondo noi ci dobbiamo immergere noi oggi e quindi per me pensare che la trasformazione verso un futuro il passaggio verso un futuro debba proprio ritrovarsi ritrovarsi nel produrre vite nuove vite diverse con mentalità diversa e questo è il concetto del terzo paradiso c'è proprio una biologia e una concettualità che si devono legare che poi diventano c'è bisogno di qualcosa di molto pratico per cambiare le cose oggi nella società quindi non basta l'idea ma bisogna anche poi c'è il fatto simbolico che per me è molto importante perché siccome ritengo che tra il simbolo e la cosa simboleggiata ci debba essere un'identità in qualche maniera a volte nascono prima le cose e poi i simboli che noi troviamo per rappresentarle altre volte nascono prima i simboli e poi le cose però dal simbolo il simbolo è sempre qualcosa che prelude a qualcosa che deve poi assomigliargli allora per me l'idea di pubblicizzare un simbolo come quello del terzo paradiso vuol dire che spero che si crei una realtà che assomiglia a questo simbolo buonasera senta io volevo tornare alle opere sue degli anni sessanta perché quando lei parla di nulla iniziale infinito finale perché queste parole mi fanno credo insomma ci sia una certa affinità con l'idea di vuoto tipico di una certa idea estremo orientale estremo orientale e non dico a caso perché appunto in quegli anni diciamo c'erano molti artisti cinesi giapponesi in occidente il gruppo Gutai nel 59 a Torino nel 60 si pubblica un'opera molto importante dove anche Umberto Eco insomma scrive la postfazione quindi stava diventando insomma abbastanza conosciuta quindi la mia domanda è questa nella sua diciamo iniziale elaborazione della poetica rispetto a questi temi vuoto nulla infinito c'è una certa tangenza rispetto a questo pensiero o eppure era diciamo solo Dan Ler grazie no ci sono 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 situazioni che possono essere coincidenti possono essere parallele ma io non posso arrivare allo specchio partendo da facendo dei calcoli letterari dei calcoli di questo genere non posso è un fatto per me il lavoro il lavoro è materia che nasce dalla materia artistica non nasce da da logiche da logiche filosofico letterarie eccetera il mio lavoro nasce nasce proprio dalla diciamo dalla materia artistica la trasformazione la trasformazione della tela in specchio non passa attraverso un ragionamento passa attraverso una trasformazione della materia della materia pittorica in base a che cosa in base ad una ricerca ad una necessità ricerca che risponde ad una necessità una necessità che è di tipo profondamente spirituale primariamente spirituale infatti ho messo come prima immagine l'icona perché io sono ho cominciato a lavorare a lavorare a 14 anni nello studio di mio padre restaurando quadri antichi quindi avevo le icone dovevo restaurare le icone e quindi l'arte per me era prima di tutto icona però poi dietro a questa icona c'era poi tutto il sistema c'era il fascismo c'era il papa e il duce c'era c'era Hitler e poi è venuto fuori è venuto fuori il comunismo russo è venuto fuori Stalin e compagnia bella ho vissuto quelle cose lì che sono poi quelle cose reali che in qualche maniera dovrebbero corrispondere ai simboli e quindi dare senso di appartenenza a qualche cosa di condivisibile io trovo che era tutto incondivisibile la cultura che mi veniva impartita era incondivisibile non era condivisibile e forse lo era per tanti altri ecco che per tanti altri sono venuti fuori è nata forse è nata o è continuata questa necessità di scoprire dei fondamenti su cui muovere poi il pensiero e le azioni io ho usato l'arte proprio come ricerca di fondamento e io credo che io credo per esempio che il metro cubo di infinito possa essere paragonabile alla pietra nera dei musulmani solo che dentro la pietra nera c'è c'è un c'è un c'è un bisogno e dentro il metro cubo di infinito c'è una scienza e questa è la differenza cioè tutto il mio lavoro è fenomenologico non c'è niente di arbitrario quindi arrivi arrivi alla fenomenologia fin dove la fenomenologia ti può portare non più in là prima mi è stata detta una cosa secondo me molto interessante scusi se forse non riesco a rispondere bene alla sua domanda ma il mio lavoro è un lavoro che percorre la problematica attraverso l'arte e non mi chiedo scusa per la mia ignoranza ma io sono ignorante oltre che conoscere l'arte tutto il resto per me viene come diciamo come riflesso intorno all'arte ma non è non è quella la mia strada non è letteraria non è filosofica l'unica letteratura che conosco è quella immagine che ho messo come prima immagine ed è sulla materia di quel fondo oro che io ho lavorato e perché quel fondo oro era già di per sé probabilmente un problema di nulla e qualcosa il problema diciamo di una di una una questione di una domanda di fondo di una domanda di fondo che la religione stessa si pone anche se poi le religioni sono strutture di tipo economico politico in effetti sociale economico politico ma effettivamente la non c'è nel mio lavoro volevo dire questo volevo dire che l'idea del nulla l'idea del tutto e del nulla viene fuori dallo specchio ma proprio come come scoperta scoperta scientifica dell'arte perché nello specchio lo specchio è veramente nulla non c'è io non è infatti lei ha menzionato ecco ecco quando ha scritto dello specchio ha detto che lo specchio non ha qualità simboliche di nessun genere di nessun genere no e non è non è come si dice non ha segno è assegnico com'è la parola giusta quella che ha usato ecco ecco è un fenomeno assemiotico ecco mi è venuta bene la parola assemiotico per me lo specchio dopo che io l'ho l'ho fatto uscire dalla materia arte artistica e ha rappresentato proprio la semiotica universale perché una cosa è vedere è vedere un oggetto nella realtà l'altra è vederla nello specchio lo specchio è già l'oggetto pensato è già l'oggetto riflesso dunque lo specchio è l'emblema della rappresentazione e della riflessione mentale quindi vedi qual è la differenza tra un sociologo un uomo di un filosofo e un artista l'artista ha una sua materia questa materia dell'arte mi porta proprio a arrivare all'essenza del fenomeno artistico che è quello della rappresentazione e quindi se c'è rappresentazione c'è anche c'è anche semiotica la parola che mi sfugge c'è semiotica quindi semmai è semiotico per eccesso ma non per difetto lo specchio quindi allora ma in questa semiotica abbiamo un rapporto diretto tra quello che è un vuoto il nulla e il tutto perché mentre la specchio è nulla è anche la rappresentazione del tutto e quindi non ho bisogno di filosofi a raccontarmi queste storie fantastico una domanda qui e una poi la mia non è una domanda ma un inno di gioia perché lei ha detto veramente una cosa fondamentale per gli storici dell'arte per gli storici dell'arte io lo sono insomma o perlomeno faccio questo mestiere perché effettivamente noi studiamo esattamente troppo poco la materia e i materiali un personaggio per esempio come Mantegna non era non sarebbe stato quello che è stato se non aveva se non avesse avuto questa grande conoscenza dei materiali delle tecniche della simulazione dei materiali delle tecniche gli altri gli potevano parlare intorno di sensi ma lui ha dato un senso molto forte ed elevato al suo lavoro con un messaggio che ancora è oggi secondo me riscopribile con nuovi significati eccetera proprio perché lavorava aderente aderente all'oggetto alle cose e devo dire che questa sua lettura del suo lavoro di 40 anni di ricerca non solo ci ha reso resa in maniera così chiara trasparente è invece una ricerca molto complessa e che è un grande percorso all'interno della storia italiana di quel tempo ma anche all'interno nel suo microcosmo personale di una storia dell'arte più generale perché lei è partito dall'arte iconica attraverso la riflessione sulla propria immagine è arrivato a una sperimentazione sui materiali ha superato il rapporto iconico è arrivato all'arte aniconica che però dividendosi producendosi si rincarna nel mondo è arrivato ai segni insomma questo è straordinario io voglio solo dire questo non ho domande perché per il momento sono troppo emozionata devo ancora riflettere grazie mille grazie grazie volevo chiederle e nello stesso tempo segnalare al pubblico se non lo conoscono che Hofstetter il famoso autore di Gödel Escherbach nell'ultimo suo libro Strange Loops tradotto come Stradelli da Delphi ha un lungo capitolo in cui descrive un esperimento che lui ha fatto su due specchi studiando le varie inclinazioni che doveva che doveva dare ad essi per avere una ripetizione di n n specchi l'uno dentro l'altro oppure per andare all'infinito e tutto questo studio poi per studiare appunto l'autoriferimento e la natura dell'io secondo le sue concezioni ora non la cita però siccome Hofstetter conosce molto bene l'Italia la cultura italiana io ho forte sospetto che qualche influenza ci sia merita comunque probabilmente fare il confronto perché c'è una stretta analogia proprio di ricerca e di risultato grazie c'è stata una battuta prima che vorrei non lasciar passare così senza senza puntualizzazione che è quella che è quella dell'artista è identico al lavoro e lavoro identico all'altro cioè artiste lavorano una cosa sola per me questo è fondamentale io penso proprio che non ci sia differenza ma questo non in senso individualistico ma proprio in un senso olistico se vogliamo non c'è differenza tra artista e opera quando le due cose possono veramente dimostrare che coincidono perfettamente ecco questo è per me molto importante perché penso sempre all'artista come non solo come una persona che crea un'opera e che quindi l'opera è altro rispetto ad adesso non è perché questo risponde a un'idea mica l'ho riattaccato accidente chiedo scusa l'ho riattaccato non volendo l'ho staccato senza chiedo scusa perché adesso poi proprio questo non deve succedere la tecnologia però la lasciamo passare è il fatto che ci debba essere ecco io poi per me è anche un fatto universale perché poi se avete notato c'è sempre il rapporto tra l'uno e l'universo tra l'esistere e il non esistere per me e questo secondo me è una cosa che io trovo molto nella musica non in tutta magari ma in molta musica specialmente nella musica rock se vogliamo dove ci sono i cantautori gli autori che sono allo stesso tempo che elaborano la propria musica e se la suonano e se la suonano e se la cantano ecco questo lo trovo molto bello mi piace molto questa cosa qua ed è una delle ragioni per cui mi interessa la Nennini per esempio è una persona la sua voce è se stessa e quello che fa è tutt'uno mi piace per quello ecco io dico che pensare a un'idea di Dio che sta fuori dall'universo e che crea un'opera che la mette là e la espone è lontano dal mio pensiero io penso che se io fossi Dio sarei nello stesso tempo la mia opera ecco perché penso che l'universo e Dio siano la stessa cosa insomma ora spero di riuscire a esprimermi ma cioè io trovo commovente questo bisogno di di comunicare no città dell'arte credo che sia un passo estremamente complicato che però mi pare un po' in contraddizione con questo suo essere tutto nell'opera è come se nel momento in cui poi lei volesse vedere incarnato il suo sogno andasse poi a sbattere contro la difficoltà di comunicarlo e condividerlo è come se volesse lasciare un'eredità che però qualcuno deve nutrire e far respirare allora mi chiedo ecco questa città dell'arte in effetti come funziona cosa fa e fino a che punto la sua è un'utopia o veramente lei pensa che possa riuscire no l'arte a diventare vita senza snaturarsi senza perdersi come arte esiste esiste nel quadro specchiante c'è un elemento che dobbiamo possiamo considerare fondamentale che è la relatività tutto ciò che avviene nel quadro specchiante è relativo la relatività è talmente totale perché non c'è niente di definito forse lì ecco a ragione non c'è niente di definito però c'è c'è un tutto c'è un tutto che attraversa che attraversa che continua che c'è un presente continuo questo questa questa impossibilità di definire un fatto assoluto dentro allo specchio forse forse il tentativo di fissare un'immagine può rappresentare questo concetto di assoluto però è un assoluto che si relativizza immediatamente con il presente e con il futuro dunque questa continua impossibilità di affermare l'assoluto fa sì che il relativo che la relatività sia così totale da essere assoluta perché non ha paragoni noi nello specchio non troviamo paragoni da opporre a questa relatività dunque nel quadro specchiante l'assoluto e il relativo coincidono così come il caos perché abbiamo questa immagine di una di un'instabilità assoluta tutto quando succede così per caso che e qui la parola caso e caos secondo me attraverso una lingua italiana possono anche apparentarsi caso caos c'è l'ordine perfetto nello specchio c'è l'ordine perfetto non c'è niente di fuori posto infatti il caso è qualche cosa che non è mai né in anticipo né in ritardo è sempre puntuale è la puntualità assoluta dunque è il presente il presente è la combinazione è la combinazione diciamo tra fenomeni che possiamo chiamare relativi in quanto il caso li combina il presente è il caso che combina passato e futuro per esempio dunque io adesso non so se questa cosa qui si è allontanata troppo dalla sua domanda qual era già la sua domanda se me la puoi ripetere un attimo città dell'arte ah ecco sì sì infatti mi accorgevo che mancava città dell'arte quando io ho cominciato ho comperato questo spazio io avevo fatto un testo che si chiamava progetto arte arte come progetto centrale di quello che di quello che può essere diciamo uno sviluppo uno sviluppo comprensivo coinvolgente dell'arte rispetto ai vari ambiti del mondo l'architettura io cominciavo parlavo di architettura parlavo di religioni parlavo di artigianato parlavo di cose di questo genere perché perché sono un po' le cose che nel passato hanno visto l'artista complice e di lì mi ho detto ma questa complicità dell'artista non può rimanere su un piano di esclusività soggettivistica assoluta è una grande conquista la soggettività che si è ottenuta attraverso l'arte moderna attraverso il segno di Yves Klein attraverso il segno di Capogrossi il segno di Fontana e questa soggettività va bene ma poi questa soggettività a un certo momento io sai che si sono quasi tutti suicidati quegli artisti dell'Action Pain suicidati perché non può una persona sentire in se stessa come il parafulmine di un universo che ha distrutto socialmente capito? però è importantissimo che una persona dica io sono il segno allo stesso tempo io sono il segno così ho fatto il segno arte anche io e va bene però a un certo momento io voglio che questa autonomia questa autonomia che l'artista ha portato ad un punto che non è mai esistita prima voglio che questa autonomia passi dal soggettivo all'oggettivo voglio non essere vittima di questa soggettività ma voglio che la mia soggettività e lo specchio mi ha dato la risposta sono io ma ogni altra persona che guarda dentro questo specchio è un io quindi siamo sono passato dall'uno al noi mi permetto un'osservazione dice sostiene anzi Howe King scienziato inglese di Cambridge nato nel 1940 purtroppo ha studiato e continua a studiare da una semplice carrozzella perché ha un male progressivo che non li impedisce di fare di più ma è oggi diventato uno studioso di grande importanza all'università addirittura dove insegnò Newton questo egregio scienziato sostiene che ancora non siamo entrati nella mente di Dio perché quando entreremo non si sa quando e non si sa come nella mente di Dio allora lui stesso sostiene che per chiunque dallo studioso dal grande scienziato all'uomo qualunque della strada capirà l'arte tutta l'arte in maniera che la possa ben digerire a assaporare e goderne della bellezza e dei benefici scusate ma lei ha detto che era un'osservazione io trovo io trovo che lei abbia detto qualcosa di perfettamente giusto se c'è bisogno tanto bisogno specialmente fra le persone ignoranti come me ma fra tutte le persone di capire meglio certe cose oggi mi sembra che anche lo spettacolo è diventato ermetico o è troppo scherzoso o è troppo satirico o è troppo sarcastico o è troppo serio dobbiamo entrare nel cuore della gente nel cuore delle persone che soffrono nel cuore delle persone che hanno bisogno di capire se questo non si fa è segno che ancora non siamo entrati nella mente di Dio beh ma lei non so se ha notato che io faccio lo sforzo di fare proprio questo è proprio questo lo sforzo che bisogna fare ti volevo chiedere una cosa fra le immagini che hai mostrato vorrei fare riferimento alla cappella multiconfessionale dove c'è il metro cubo d'infinito abbiamo visto le immagini della cappella multiconfessionale a città dell'arte negli spazi espositivi dove ognuna delle religioni è simbolicamente rappresentata c'è un Cristo in gesso c'è un tappeto islamico rivolto verso la Mecca bianco però ci hai fatto vedere anche quello stesso lavoro in un luogo della vita reale di tutti i giorni estremamente concreto che è nell'ospedale che è nell'ospedale la mia domanda che prettamente non è veramente una domanda poiché è solo la risposta sono stata lì con te per la prima volta dopo diversi anni che ci conosciamo io ho veramente capito il valore dell'opera d'arte all'interno della vita quando sono entrata con te in quell'ospedale e ti vorrei chiedere di raccontare come l'uomo di tutti i giorni che non è un critico d'arte che non è uno studente che non è persona che fa dell'arte un mestiere ma che è lì per ragioni altre come vive in maniera sicuramente istintiva e non intellettuale un lavoro come quello perché credo che forse possa anche rispondere a diverse osservazioni che sono un lavoro che si apre alle diverse culture alle diverse religioni e alle diverse tradizioni alle diverse abitudini e quindi e anche ai diversi bisogni bisogni pratici perché lì siamo in un ospedale dove la gente muore di cancro e che viene c'è la ricerca di superare quindi non è un luogo miracoloso dove non si fanno i miracoli si cerca proprio di far guarire la gente non solo pensare che forse Dio verrà lì in soccorso perché si sta occupando di quella persona del mal di pancio del mal di qualcosa di quella persona e si occupa di quella persona in particolare lì c'è il medico che si occupa di quella persona e ci sono molto più probabilità che si guarisca che non per un fenomeno di tipo sopranaturale e quindi la gente lì dentro in qualche maniera sente qualche cosa sente qualche cosa che sposta il baricentro della sicurezza del proprio della propria tradizione della propria unicità culturale perché di fianco a quello che sta facendo magari celebrando la messa c'è quello che sta facendo si sta inchinando davanti alla mecca e lo stanno facendo contemporaneamente e poi escono e vanno al bar a prendere una tazza di tè e questa è una cosa meravigliosa perché c'è una possibilità di trasversalità che prima o poi tutti capiscono e poi magari non capiscono cosa c'è dentro questo cubo non lo so però si deve anche parlare con la gente bisogna anche parlarne bisogna anche discutere bisogna fare anche qualche cosa di più che non lasciare la gente diciamo di fronte a se stessa però c'è questa trasversalità ed è questa e poi ci sono i libri abbiamo messo dei libri che sono libri che vengono dalle diverse culture religiose per cui il malato può anche passare il suo tempo confrontando diversi pensieri o anche i parenti che vengono lì quindi c'è questa trasversalità che secondo me è molto importante e la cosa straordinaria come tu giustamente dicevi è che funziona ecco questa è la cosa che funziona tu vedi che poi tutti questi queste basi con sopra i simboli le hanno personalizzate non so i buddhisti hanno messo i buddhisti hanno messo delle luci gli altri hanno messo delle immagini gli altri hanno messo i tappeti si sono moltiplicati ognuno porta il proprio tappeto per andare poi lì a fare la sua cosa insomma è una cosa meravigliosa scrivono poi c'è un libro ciascuno scrive oh grazie questo è meraviglioso vuol dire che è una realtà che funziona c'è bisogno di trasversalità di love difference c'è bisogno di amare le differenze voglio chiedere una cosa io brevissima volevo solo sapere a seguito di questo racconto una curiosità sulla colonna vuota c'è qualche oggetto che è rimasto depositato o è rimasta vuota no perché la colonna vuota c'è nella città dell'arte mentre invece l'anno al posto della colonna vuota c'è questa questa biblioteca delle diverse religioni delle diverse culture grazie in diverse istituzioni che si occupano di arte contemporanea anche della divulgazione si parla recentemente sempre più spesso del termine mediazione cioè della mediazione che dovrebbe essere effettuata dalle persone che sono a conoscenza delle caratteristiche dei linguaggi dell'arte contemporanea che come è stato rilevato sono un po' criptiche ancora per il grande pubblico quindi si parla di mediazione però con questo termine si sottolinea anche il fatto che in effetti ci sono delle figure di esperti e poi ci sono delle persone non esperte quindi si sancisce un po' il distacco tra l'uomo comune o per esempio il ragazzo quando si parla dell'accesso ai luoghi museali dell'arte contemporanea da parte delle scolaresche c'è appunto questo distacco che viene colmato da da una figura classica che è quella dell'esperto e poi ci sono invece delle altre istituzioni che stanno facendo degli esperimenti di coinvolgere il pubblico nella creazione dell'opera d'arte attraverso degli eventi per esempio si chiama l'artista e l'artista lavora con il pubblico io volevo sapere qual è la sua opinione la sua idea di avvicinamento del grande pubblico all'arte visto che abbiamo detto che l'arte dovrebbe essere un fenomeno che aiuta le persone a stare bene grazie il lavoro da fare in quel senso lì è grandissimo è grandissimo c'è 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 la città dell'arte tendiamo a usare la performance come fatto coinvolgente la performance per fare entrare diciamo lo spettatore nel nella in un'attività proprio diretta sperimentale anche perché la performance è forse il fenomeno più vicino a quello che è stato l'uso del diciamo del rapporto interpersonale delle religioni in fondo le religioni sono poi organizzate in senso performatico dalla nascita alla morte c'è una performance continua dei vari momenti della vita che vanno dal battesimo per esempio poi ci sono il battesimo è ancora il più indolore delle iniziazioni perché ce ne sono altre molto più drastiche e drammatiche iniziazioni ma e quindi e quindi c'è questa poi dopo poi c'è l'adolescenza e c'è la cresima poi c'è il matrimonio e poi c'è purtroppo oggi c'è anche molto il divorzio però è diventato uno dei fenomeni rituali anche questo poi fino alla morte quando c'è la sepoltura io credo io credo che sia molto importante concepire diciamo una forma di arte non diciamo di sfondo religioso quindi socialmente libera dal diciamo dal dogmatismo e quindi dalle regole del fideismo proprio usando quella libertà che l'arte quell'autonomia e quella libertà che l'arte ha messo in gioco nel ventesimo secolo che è ancora tutta da utilizzare va a essere utilizzata su un piano su un piano comune perché perché come dicevo prima il pubblico capisce capisce capiva capiva un sistema era parte di un sistema che faceva sì che la religione e tutti i vari aspetti del sociale fossero uniti arte compresa ma l'arte nel ventesimo secolo ha assunto una spiritualità individuale soggettiva ed è questa soggettività che non è capita di uno che dice io sono sono un elemento un elemento assoluto e relativo nello stesso tempo nel mondo perché non credo che 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 franz klein dicessero io sono l'unico artista perché vicino c'era quell'altro che faceva delle forme completamente diverse dei colori diversi delle cose quindi c'era questa moltiplicità delle già delle differenze che che però non era affermata io ho addirittura distrutto la mia individualità perché quella soggettività è stata catturata dal sistema economico ed è stata capita solo attraverso il sistema economico e non attraverso un sistema spirituale questa soggettività questa capacità dell'individuo di essere sé e tutto nello stesso tempo ma tutto questo è ancora tutto da fare allora ci vogliono forse ci vogliono anche delle zone dei luoghi come lo sentiamo di creare in città dell'arte dove queste cose possono essere sperimentate capite e portate avanti grazie mille ora veramente l'ultima domanda grazie volevo chiedere qual è il suo sguardo su Pisa le spiego su Pisa su Pisa diversi anni fa parlavo con uno scultore che mi disse ah lei viene da Pisa Pisa è quella città che ha le stradine strette strette e poi i lampi di luce delle piazze mi è sembrato una bella descrizione mi ha aiutato a guardare la mia città anche con quello sguardo ecco mi piacerebbe sapere il suo sguardo il mio sguardo è questo e la seconda domanda quando è che ritorna lei qui? quando mi invita lei ok volentieri no dicevo dicevo tanto per aggiornare la risposta e dire se aumentiamo in queste stradine il 20% di quello che c'è stiamo freschi ecco voglio dire perché questo è anche possibile quindi io credo che oggi l'educazione culturale della gente l'educazione estetica diretta del pubblico è molto più importante che pensare di poter educare chi sta al governo grazie mille io vorrei solo dire che è veramente vero quello che ha detto Luciano Modica prima che sentire la voce di Michelangelo Pistoletto pensando alla sua opera cambia veramente tutto non solo per l'opera sua ma per capire quello che sta succedendo intorno a noi nell'arte e fuori grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti